Dateci uno spazio, sapremo renderlo accogliente, farlo rinascere, modellarlo su misura ai vostri desideri e alle vostre esigenze. Arredo Park, un'azienda giovane e dinamica specializzata negli arredi urbani e privati, con l'impiego di acciaio inox. Realizziamo contesti dal design contemporaneo e non solo, soluzioni innovative e moderne con una grande attenzione ai dettagli. Arredo Park è al fianco di privati ed enti pubblici, regioni, province, comuni. Realizziamo panchine, lampioni, gringhiere, corrimano, scale, recinzioni, fontane e tanto altro. Vieni anche solo per renderti conto di quanta cura mettiamo in ogni fase della lavorazione. Siamo alla continua ricerca di nuove soluzioni di design, di finiture di alta qualità. Arredo Park, zona industriale Porto Salvo, Vibo Valencia. Info 800 58 93 30. Mail arredoparkitalia.it